Ciao a tutti, buonasera. Una piccola pillola in omaggio al mio nuovo amico anonimo Ciro, che peccato che non ha voluto rivelarmi chi sia e mostrarmi la sua faccina, però mi ha divertito per circa 24 ore negli ultimi due giorni ed è stata un'esperienza interessante. Anche perché questo mi permette di ribadire un concetto economico secondo me rilevante nella continua e eterna discussione con il mondo cosiddetto sovranista che ritiene la soluzione di tutti i problemi economici del mondo possa avvenire attraverso una espansione della spesa pubblica finanziata dal governo, dalla banca centrale, in loro mente sono la stessa cosa, che stampano moneta, creano moneta addizionale, creano moneta addizionale utilizzando il loro monopolio sovrano. Mi scuso, per la voce sono un po' di tosse. Mi è venuto a farlo così al volo, perché così al di là dell'episodio del povero Ciro confusissimo, ci sono due elementi in questa storia che sono generali. Uno proprio il concetto che affermerò in un attimo, due la metodologia e cioè il fatto che la conversazione con Ciro è avvenuta così, ve la illustro e poi vi mostro i vari passaggi, ve la potete andare a guardare su Twitter da solo. Lui ha detto un'assoluta scempiaggine in risposta a un'osservazione correttissima di Gianluca Codagnone che diceva, eh, l'Argentina fallisce ancora e invece secondo le teorie sovraniste non avrebbe dovuto fallire perché hanno la sovranità monetaria e hanno la loro moneta, una banca centrale controllatissima, tra l'altro dipendentissima dal governo e quindi bastava stampassero moneta e avrebbero evitato il default. A questa asservazione correttissima, come illustro nel momento, il Ciro ha risposto con una battuta scema che dimostra la non comprensione dei meccanismi economici. Ha detto, eh no, stanno facendo default perché hanno debito estero, in valuta estera, in particolare in dollari, si sono indebitati in valuta estera e quindi adesso loro il dollaro non lo controllano esattamente come l'Italia non controlla da sola l'euro, quindi non possono stampare dollari esattamente come noi poveretti, non possiamo stampare euro. Bene, poi il ragionamento, adesso ve lo spiego. La cosa divertente è che dopo un ragionamento che è durato 7, 8, forse 10 tweet per ognuno delle due parti, con interventi di alcuni accoliti suoi, tutti rigorosamente anonimi, ma per una volta ho fatto eccezione perché mi divertiva troppo ed avevo forse visto dove andava, costui con la classica benaltrismo, cioè ogni obiezione, ogni correzione, ogni chiarimento del fatto che si era raccontato da solo una balla o una frase illogica, ne inventava un'altra e continuava. È andato avanti per 24 ore fino a che alla fine è tornato al punto di partenza. Cioè la suo ultimo tweet era identico al primo, bellissimo, full circle, che è la mente malata di come funzionano questi qua. Allora, per chi se lo vuole vedere, vi mostro semplicemente dove lo potete trovare, credo sia, qual è adesso? Credo sia questo, sì, vediamo un attimo, Gianluca, sì. Eccolo qua. Questo è il tweet di Gianluca, questo il tweet del mio caro amico nuovo, caro amico Ciro Noir. Infatti, al contrario di molti anonimi così, con le faccine sceme dei loro eroi, in questo caso i Boris Johnson, che raccontano balle a raffica nascosti dietro all'animato, questo non l'ho bloccato. Li blocco quasi sempre tutti, un po' a centinaia, perché non ho alcun interesse di stare a discutere, perdere tempo con anonimi che raccontano bugie. Dico che raccontano bugie, gli dico che sono dei vigliacchi, vado lì. Questo qua invece non lo so perché, insomma, mi è riuscito, simpatico. E gli ho spiegato il ragionamento. Allora, facendola breve, poi chi è curioso si vada a vedere la sequenza di tweets e se la goda. Io avevo pensato di farveli vedere una volta, ma verrebbe una pillola troppo lunga, non vale la pena. Allora, qual è il concetto che ho cercato di far capire a questo signore? E che dovrebbe far capire regolarmente a questi sovranisti? Che il loro argomento, secondo cui, l'unico caso, in cui si rischia di fare default con moneta sovrana, è quando ci si indebita in moneta estera, che non la si può controllare. È un argomento erroneo, fallace, fallace. Per due ragioni. Va a un lato, perché gli sono svariati esempi, e credo che l'Argentina di oggi sia l'ennesimo, famosissimo, quello della Russia nel 98, che portò alla rovina, infatti, di long term capital management, in cui paesi con perfetto controllo della propria moneta, e che stanno scegliendo, o hanno una situazione in cui stanno scegliendo di fare difficoltà con valuta estera, vedremo poi cosa vuol dire questo per un Stato sovranista, scelgono con valutazione economica a freddo di fare default anche sul debito emesso in valuta propria. Così fece la Russia al tempo, che fece un enorme default sul debito emesso in rubri, che ovviamente all'on-per-capital margin non si aspettavano avvenisse, non tanto perché erano sovranissime, perché meriterevano che i costi che la Russia avrebbe dovuto pagare a fronte di un default anche sul debito proprio sarebbero stati troppo alti e non se li sarebbero permessi. Invece fecero questa scelta. Adesso non stiamo discutendo se quella scelta fu saggio o meno. Non è quello il punto. Il punto è che una delle tante volte in cui uno Stato sovrano fa la scelta razionale, o almeno razionalmente, magari non è quella ottima, di fare default direttamente sul debito emesso in valuta propria. Così sta facendo la gente. Quindi, anzitutto, l'affermazione secondo cui fai default solo perché hai debito estero e non fai default sul debito in valuta interna, in valuta propria, è falsa. Ma non è solo falsa storicamente, è illogica. Perché? Perché siccome la teoria cosiddetta sovranista dice che tu, Stato sovrano, puoi stampare quanto vuoi, espressione stampare, puoi creare quanta moneta tua vuoi, no? Quante lire o quanti peso vuoi e che questa la puoi usare liberamente sul mercato e che questa non creerà inflazione. Il povero Ciro si era reso conto a un certo punto della discussione che questa affermazione è idiota. Fai detto, eh no, ma se lo fanno si crea svalutazione. Ma veniamo anche a quello. Ma di lì è stata la parte comica perché si è accorto di avere, che questa roba non funzionava. Poi ha detto, si crea svalutazione. Poi ha detto, oh porca loca, aspetta, ma noi siamo a favore della svalutazione. Cosa faccio? Poi tornate indietro. Insomma, è una cosa comica, ve la potete vedere nei tweet. Ma, ritorniamo al punto. Siccome la teoria di fondo dice che tu puoi emettere una quantità infinita, fondamentalmente, o perlomeno priva di limiti superiori e che comunque te la accetteranno. Bene, se tu vedi che stai andando in difficoltà con il debito in valuta estera, l'unica cosa che devi fare è stampare moneta propria, andare sul mercato dei capi e comprarti valuta estera. Quando ti compri valuta estera la usi per comprare il debito che hai amesso tu e che si compre e vende sul mercato secondario in valuta straniera, dollari, lo retiri, probabilmente ci guadagni perché nel momento in cui hai delle difficoltà quel debito, anche se è un valore facciale di 100, probabilmente commercerà a subpar, commercerà a 70, 50, a seconda di quanto rapidamente tu anticipi la situazione, puoi fare questa scelta. Se sei molto lungimirante, molto bravo, lo anticipi subito. Se aspetti all'ultimo momento molto probabilmente avrai un trade off perché da un lato il debito si commercerà a valori molto bassi, 30, 40, 30, 20%, dall'altro ovviamente la tua valuta si sarà svalutata e dovrai ammetterne molto di più per avere dollari e euro. Ma nella misura in cui la tua valuta ha un prezzo positivo sul mercato Forex e ce l'ha, come oggi ce l'ha il peso argentino, dal punto di vista, io non sto dicendo, io raccomando di farlo, sto dicendo se fosse severa l'idiota teoria sovranista, basterebbe fare questa cosa. Ovviamente la teoria sovranista è idiota e una delle ragioni per cui idiota è esattamente questa conclusione a cui porta, a cui porta logicamente, ma è una conclusione talmente assurda che uno dice, eh beh, cazzo deve essere sbagliata l'ipotesi, che è esattamente quello che bisogna fare osservare. È sbagliata l'ipotesi. E cioè cos'è sbagliata l'ipotesi? L'ipotesi è che non è vero che il valore della moneta che tu emetti è indipendente da quanta ne emetti, da quanta ne viene domandata, indipendentemente dalle tue scelte. Chi possiede valuta straniera e ha di fronte un paese in crisi finanziaria, fiscale, economica di crescita, dici, beh, aspetta, la valuta di quel paese non vale tanto, quindi io non ho tanta voglia di scambiare i miei dollari per dei pesi. E quindi se loro proprio vogliono comprarsi dei dollari, io in cambio di peso io gli do, ma devono darmi dieci volte più peso, tre volte più peso di quello che potrebbero pensare. Ma notate che anche questo argomento porta comunque a una contraddizione, perché dal punto di vista sovranisto chi se ne frega? Basta stampare, giusto? Basta stampare e c'ho io il controllo. Fino a che colla? Fino a che non si chiude il mercato dei cambi completamente? Cioè fino a che tutti i possessori di valuta estera si rifiutano di accettare la valuta nazionale. Può avvenire questo? Certo può avvenire ed è avvenuto. E cosa vuol dire questa cosa qua? Questo è l'unico caso in cui l'operazione che io suggerisco ironicamente al sovranista di fare non si può fare. Ma cosa vuol dire? Che tutti gli stranieri si rifiutano di dare i loro dollari, i loro euro, i loro rubli, i loro yen in cambio di peso. Vuol dire che non si fidano assolutamente del governo che emette quella valuta. Lo ritengono un governo in totale fallimento. Un governo completamente privo di fiducia. Al quale non si può dare alcuna fiducia. Un governo totalmente unreliable. Un governo senza potere fiscale. Senza alcuna capacità di fare messaggi, di promesse, scusate, credite. Bene. Ma se tutti gli americani, tutti gli europei, tutti i russi, tutti i cinesi, tutti i giapponesi guardano il governo argentino in questo caso, italiano, nell'ipotesi dei sovranisti e dicono, mamma mia, di questi proprio non ci si può fidare. Questi hanno zero fiducia. Questi non saranno mai in grado di restituire nulla di valore. Perché mai i cittadini del paese dovrebbero essere così stupidi, idioti e creduloni da credere in quel governo? Cosa voglio dire? Vedete che nel momento in cui la tua moneta straniera non viene accettata a nessun prezzo positivo, sul mercato della valuta estera dagli stranieri. E perché non viene accettata neanche dai tuoi cittadini. È perché evidentemente hai creato così tanta moneta rispetto alla quantità di merci che vengono prodotte e si possono produrre, che i tuoi cittadini stessi capiscono. La tua moneta non vale nulla. A fronte non ha asset, non ha securities, non ha buoni dal tesoro, non ha nulla e quindi non vale nulla. Non ha nulla di nulla. È un pezzo di carta di un potere vuoto e infame, tipicamente, perché in questi casi come il Zimbabwe, il Venezuela e altri provano che ci sono poteri non solo vuoti ma anche infami e depressori. Ecco, questo è il ragionamento logico che quelli come Ciro, poveretti, non riescono a fare. Se lo facessero capirebbero, capirebbero che l'intera teoria, l'ipotesi su cui basano questa loro religione del sovranismo, questa per moneta, è fallace. Sbagliata, è stupida, è sciocca. È una teoria religiosa che dice che esiste una macchinetta magica, esiste un aspersorio, una cosa che fai così e fa delle magie, moltiplici i panni i pesci. Non è vero. Non è vero. Non che mi piace la svalutazione. La svalutazione fa bene, perché così si espori più. Ah, cazzo, è vero. L'ha detto allora. Sono molto divertente. Ma in realtà, sì, siccome la svalutazione fa bene, io se fossi il presidente argentino lo farei. È che loro non sono sovranisti convinti, quindi non lo fanno del tutto e mi dispiace. Però, d'altra parte, poi ho tirato fuori il sistema Aurea, adesso non mi ricordo. Ho tirato fuori tutti i colori del tentativo di fare la supercazzola. Se è sposato, se è fatto confusione, se fosse il sistema Aurea, quando la convertibilità è finita per davvero, su cosa implicasse, su cosa non implicasse, come se in regime di convertibilità facevano una differenza. In regime di convertibilità, anche ammesso che valga proprio letteralmente il gold standard, anche se vale il gold standard, tu puoi comunque uscire dal gold standard. Quindi se la teoria sovranista che dice stampa moneta che aiuti l'economia è giusta e fa bene, anche se è il gold standard, tenesci il gold standard. Fine. Il fatto che non l'abbia fatto nessuno, evidentemente, dovrebbe suggerire che o bene il Ciro, no Euro, è l'uomo più intelligente che si è mai sito sulla faccia della terra ed è in tasca delle ricette meravigliose per fare miliardi, oppure decine di migliaia, milioni di persone nel passato ci sono resi conto che è un'assoluta cretinata. Bene, basta. Fine della pilloletta, fine del racconto, un bacione a Ciro, no Euro e tutti gli altri. So che non servirà a voi perché chi ha una religione non la cambia di sicuro, ma mi auguro vivamente che possiate per un attimo riflettere su quanto assurda è la teoria che spingete. Ah, ecco, prima di chiudere, lo so, ci sarà qualcuno che dice no, ma noi vogliamo un'espansione moderata e adeguata della domanda attraverso la stampa della moneta. Allora, a parte che se così è ragazzi miei avete un problema perché continuate a ripetere che non c'è nessun problema a continuare a espandere il debito, tanto noi il debito non facciamo mai default. Ok? E in secondo luogo, voi dovete capire che questa idea, secondo voi, cui voi espandete la domanda stampando moneta e questo crea cresce? È una grande fantasia perché quando stampate moneta e la trasformate in spesa pubblica, sapete, quello che fate è assumere più dipendenti pubblici inutili, non produrre scarpe utili, che ne so, aumentate le pensioni, crea, date soldi alla gente che cercherà di spenderli sui beni e i servizi che sono già prodotti. Siccome i soldi li date rapidamente, se ne date veramente tanti, che arrivano immediatamente, al giro di un mese o due nelle tasche delle prove, ammesso e lungamente non concesso, che poi questi soldi arrivassero davvero a andare a cercare di produrre le cose che quei particolari disoccupati produrrebbero. Cosa fantasiosa, perché se guardate bene, la popolazione è distribuita uniformemente nei posti, mentre poi i disoccupati sono tutti di un certo tipo, tutti concentrati, sono in certe aree e guarda caso, dipende dal fatto che, visto quello che sanno fare e quello che vogliono prendere, le due cose non collemano, sanno fare poco, vogliono prendere tanto, quindi nessuno li assume e loro non hanno voglia di spostarsi a dove le avrebbero assumere. Ma comunque, ripeto, anche nella versione fantasiosa in cui c'è un ministro del tesoro, saggio, intelligente, che fa il sovranismo, però solo un pochino di sovranismo, giusto quel pelino in più, come se noi non avessimo fatto abbastanza, o come se il Giappone non ne avesse fatto abbastanza. Quindi fa quel pelino di spesa pubblica in più giusta, giusta, giusta per creare occupazione. Non funziona, non funziona neanche quello, perché quell'occupazione, cioè quei soldi extra, si rischiano nelle tasche dei soliti noti, e i soliti noti vanno a comprare le solite cose. Cosa che tra l'altro fanno anche adesso. Ok? Ma questo è un detour. Il punto vero del buon Ciro è che Ciro ci ha mostrato che gli argomenti sovranisti finiscono per inchiodarsi da soli, finiscono in un cerchio logico da cui non riescono a uscire, e a ogni passaggio al cerchio logico c'è un errore, o storico o logico. Mi spiace. È così. Non sono gli unici, ma oggi è toccato a loro. Ciao e buona serata.